Allora Rafferetti, siamo partiti bene, nel senso che oltre a vincere sei ad attacchi in gol, quindi hai ricominciato, hai ricollegato quello che avevi fatto l'anno scorso fino al momento in cui ti hai rifatto male, hai ricominciato da lì, dal gol, no? Sì, è importante per l'attaccante fare gol, non lo nascondo, è una cosa in più che dà respiro e l'aria per continuare, sono motivazioni che gli attaccanti ce ne hanno questi qua, perciò sì, contento, contento soprattutto del risultato fatto, è una partita difficilissima, difficilissima, siamo stati bravi anche a gestire i momenti di tensione che ci sono stati, fra virgolette, mille fattori, prima partita in casa, squadra tosta loro, le squadre toscane non sono mai facili, perciò siamo stati bravi a gestire questi fattori qua, nonostante il rigore preso siamo riusciti a tenere il ritmo e poi a portarlo a casa. Anche perché in effetti loro hanno giocato un po' a intimidire all'inizio, entravano anche molto duri, ma non solo all'inizio, e quindi per un attacchiante come te, che era marchiato ovviamente stantissimo, non è che c'erano tanti palloni oggi? No, infatti... Era dura riuscire a... No, ma anche al centrocampo, noi siamo una squadra che cerca di giocare a calcio il più possibile, al centrocampo loro, tutti sulla metà campo, loro si fanno un po' di fatica, gli spazi si accorciano e non si trovava nessun tipo di giocata di quelli che più o meno abbiamo nel DNA. Per quello dico che siamo stati doppiamente bravi, una partita che si è messa in certi momenti dura a livello di aggressione, perciò abbiamo gestito anche questi momenti qua, penso che è stato un inizio molto positivo, molto positivo.